Le direttive indicano gli obiettivi di fondo, sostenere lo sviluppo economico di qualità, contenere il consumo di suolo e quindi valorizzare la risorsa ambiente, recuperare e rifunzionalizzare il patrimonio edilizio esistente, fare scelte di fondo che spettano il pubblico sulle cosiddette aree strategiche, Campo Marcio, il comprensorio della Fiera, il Porto Vecchio, le caserme e così via dicendo. Infine scegliamo a partire da oggi, da questa presentazione, convintamente la strada della partecipazione e della consultazione. Ecco, l'ITER come andrà avanti adesso? L'ITER prevedrà che costituiamo rapidamente la struttura, ovvero l'ufficio di piano e che poi si cominci a lavorare. L'obiettivo, perché le direttive introducono delle salvaguardie che sono necessariamente provvisorie, l'obiettivo è quello di arrivare nel più breve tempo possibile, normalmente ci si mette un paio d'anni, se fosse possibile farlo in qualche mese di meno sarebbe splendido, all'adozione del piano nuovo.